Un connubio perfetto quello del vino e della musica al Woman Jets & Wine, l'evento itinerante che dal 7 al 9 settembre allietera gli ospiti all'interno delle vigne del territorio calabrese, prima tappa a Bisignano tra le colline che abbracciano il Cosentino. Non basta produrre, bisogna anche, non dico pubblicizzare, far conoscere, preferisco dire far conoscere i prodotti ai consumatori illustrando loro quali sono le caratteristiche, far conoscere anche il territorio perché le colline di Bisignano onestamente a mio avviso non hanno nulla da invidiare alle colline toscane per esempio, a quelle ombre bellissime certamente molto più attrezzate, molto più conosciute delle nostre ma anche noi possiamo difenderci e fare la nostra parte perché dal punto di vista paesaggistico io le trovo meravigliose. Un evento caratterizzato da voci femminili e da vini di successo del territorio calabrese che hanno saputo sfruttare al meglio le meraviglie del territorio. Il connubio tra vino e musica è un connubio interessante perché sono due piaceri della vita quindi creano l'ornamento giusto per un scenario che è veramente spettacolare, già di sua. La prima edizione dello scorso anno è stato un grande successo nonostante era la prima tappa di questo tour. Quest'anno come una piccola particolarità faremo assaggiare la carne del suino nero di Calabria che è una razza che alleviamo già da tempo.